Quali sono le conseguenze più durature del regno di Carlo Magno? Ma direi che a questo punto la conseguenza più importante, e venuta fuori credo in modo abbastanza evidente, è la formazione di un nuovo spazio politico che prima non esisteva e che dopo di allora ha continuato a esistere praticamente fino a oggi e che possiamo definire se vogliamo l'Europa, ma meglio ancora forse l'Occidente. Qui bisogna essere molto chiari ancora una volta. Prima di Carlo Magno uno spazio geopolitico di questo tipo che va da Barcellona a Hamburgo a Budapest a Benevento che racchiude quelle che oggi sono la Francia, la Germania, il Belgio, l'Olanda, la Svizzera, l'Austria, l'Italia ma soprattutto il centro nord, la Spagna ma solo un pezzo, la Catalogna. Ecco, uno spazio del genere non esisteva prima. L'impero romano era tutta altra cosa. L'impero romano andava dalla Scozia all'Iraq e quando un legionario o un funzionario romano veniva mandato sul Reno si sentiva nel posto più sperduto dell'impero, in una sciagurata frontiera tra i ghiacci del nord. Mentre quando veniva mandato lo stesso legionario o lo stesso funzionario romano in Egitto o in Siria, beh lì sì che si sentiva nel pieno dell'impero romano e nel pieno della civiltà. Questo a un certo punto cambia ed è con Carlo Magno che questo cambiamento diventa evidente. Con Carlo Magno nasce uno spazio europeo che fa finta di essere romano, lo dicevamo, ma che in realtà non ha niente a che fare con la geografia dell'impero di Roma. Ed è uno spazio che chiama se stesso Europa. Abbiamo ricordato come il nonno di Carlo Magno sconfigge gli arabi a Poitiers e un cronista dice hanno vinto gli europei. Questa cosa al tempo di Carlo Magno si accentua ancora di più. Già quando Carlo Magno è al potere da pochi anni, dopo che ha conquistato l'Italia, gli scrive un prete dall'Irlanda addirittura, che non fa neanche parte del suo impero quindi. Ma questo prete Katwulfo scrive a Carlo dall'Irlanda e gli dice è Dio che ti ha messo sul trono per la maggior gloria del regno d'Europa. L'Irlanda non è sottomessa a Carlo, ma anche gli irlandesi sanno che il vero potere dell'Occidente è lì e che si chiama Europa. L'altro esempio che io ho trovato sempre straordinario corrisponde al momento in cui Papa Leone III è scappato da Roma ed è andato a chiedere aiuto a Carlo. Siamo nell'anno 799, il re e il papa si incontrano a Paderborn e lì in quei mesi in cui si discute e si progetta l'incoronazione imperiale in quei mesi un poeta anonimo scrive quello che possiamo ben chiamare un instant book un poemetto per celebrare l'incontro del re e del papa e in questo poemetto, quest'autore anonimo si rivolge a re Carlo, non ancora imperatore e gli dice tu sei il re padre d'Europa. Ecco, rex pater europe, in latino non ci sono gli articoli. Come lo traduciamo in italiano? Non direi il padre dell'Europa, sarebbe un po' troppo, ma un padre dell'Europa sì, certamente Carlo Magno è uno di quelli che hanno messo mano alla creazione di quello spazio europeo, occidentale che è familiare ancora a noi oggi. Uno spazio in cui se sei a Bruxelles, se sei a Strasburgo, se sei a Maastricht che sono poi i luoghi dove Carlo è nato, è vissuto, dove c'erano le terre della sua famiglia allora lì sei nel cuore dell'Europa, se sei sul Reno sei nel cuore dell'Europa e della civiltà, mentre invece se sei nei Balcani, se sei in Grecia, ecco, lì sei un po' ai margini. Forse non è giusto vederle cose così, ma fino a non molto tempo fa in Europa era normale vederle così e questo davvero risale a Carlo Magno. Grazie a tutti.